Siamo quasi pronti, James. Ricevuto. Cos'è successo? Sono morti. Sono tutti morti. Sono morti e nessuno ai vertici rilascia una dichiarazione. Questo fascicolo non ha senso. Chi può alterare i nostri segnali, le nostre registrazioni? Fratello, questo è il modo di parlare della mano di Dio. Mal di testa? Paranoia? Memoria confusa? Io non sono pazzo. Ti serve aiuto per dimostrarlo. So come ci si sente quando la guerra ti segue anche a casa. Ma spero che lei sappia trovare la pace sapendo che questa missione è terminata. Non sei in guerra. Sei a casa. C'è una bella differenza. No, non più. Non ti lascerò continuare. Mi è successo qualcosa in quell'operazione. No, non ti lascerò continuare.